Siamo con la presentazione del suo libro, questa è la sua prima opera. Come mai ha scelto un tema così importante, un tema di cronaca, e su un fatto è accaduto realmente? Io mi occupo, diciamo, a livello giornalistico di cronaca e tra i tanti casi questo mi aveva sempre colpito, un po' per il tipo di omicidio in sé, ma soprattutto per il fatto che fosse non solo insoluto, ma che in qualche modo la vittima fosse stata dimenticata in tutti i sensi, sia a livello giornalistico che anche a livello investigativo. E quindi quando la casa editrice mi ha chiesto di scrivere un libro non ci ho pensato su un attimo e ho scelto di fare un'investigazione accurata su questo caso. Quali risorse sono state impiegate per fare queste indagini e per scrivere questo libro? Ma sai, il lavoro è molto grande prima, perché poi dopo una volta che hai raccolto il materiale la scrittura viene quasi da sé, in realtà è tutto un lavoro di ricerca dal punto di vista giornalistico innanzitutto perché devi andare a leggere le cronache dell'epoca, che ti danno anche un quadro di quello che è il momento storico in cui questa cosa accade. E poi le carte processuali e poi le interviste alle persone che in qualche modo hanno interagito con la vittima e con l'altra vittima, perché qui abbiamo anche un accusato che è Vittorio Biffani che è stato processato e assolto per tre volte, ma qui in qualche modo è stata rovinata la vita anche a lui. Quindi diciamo che il lavoro è accurato dal punto di vista giornalistico, ma ci tengo a dirlo, il libro si legge in fondo come un giallo, insomma, perché in realtà è un giallo. Il titolo è 40 passi, come mai questo titolo? 40 passi perché il primo giorno che ho fatto i sopralluoghi, nei luoghi proprio dove è avvenuto questo omicidio, che è un quartiere di Roma a talenti, ho percorso l'ultimo tratto di strada in vita della signora di Veroli e i passi erano 40, mi è sembrato di mettere un punto proprio su quello che è stato l'ultimo suo passaggio e poi soprattutto quei 40 passi che sono stati poi percorsi anche dall'assassino perché la signora di Veroli muore in casa, insomma, poi il caso è abbastanza particolare, lei muore in casa e viene chiusa nell'armadio e non la trovano perché i parenti e gli amici che si susseguono i primi giorni di ricerca tendono a cercare delle tracce ma non ad aprire l'armadio, quindi la signora è lì e non si trova, diciamo viene trattata come un caso di scomparsa all'inizio, però poi dopo, insomma, il caso purtroppo vuole che la si trovi lì dentro. Allora, ancora oggi non c'è un reale colpevole, insomma, l'assassino non è stato trovato dopo tutte le indagini, dopo il libro, lei si è fatto un'idea di chi possa essere, un'ipotesi, un qualcosa? Allora, un nome no, sarebbe inopportuno anche, insomma, però l'idea che ho è che ci sia una persona nella vita della signora di Veroli che era un personaggio molto cupo, molto solitario ma che è anche molto riservato, per cui ritengo che ci sia stata una ultima frequentazione fatale che è rimasta nascosta ai più e questo personaggio, questa donna, perché non sappiamo neanche se uomo o donna, ha avuto due giorni e mezzo di tempo per poter far perdere le tracce e confondere le acque, proprio perché questo suo occultamento del cadavere le ha permesso di avere un margine di vantaggio che purtroppo ha da adesso, siamo a 21 anni dall'omicidio, fino adesso non ha permesso di ritrovarla. Che orgoglio c'è a presentare a Pomezza la sua prima opera, Legge Pometino? Guarda, questo libro ha già fatto un po' il giro d'Italia, insomma, questa sarà la dodicesima, tredicesima presentazione un po' in tutta Italia, a Roma compresa, nella grande fiera del libro di dicembre, però ci tenevo particolarmente a presentarlo qui a Pomezza, da cittadino Pometino e soprattutto perché volevo in qualche modo che la biblioteca fosse teatro, quindi un posto istituzionale che fosse teatro di quella che secondo me è un'azione che spero non sia solamente solitaria, perché comunque di scrittori a Pomezza ce ne sono tanti e sarebbe bello che la cittadinanza li conoscesse, quindi insomma la mia è un po' una prova d'orgoglio quella di presentare, di raccontare la mia opera nella città dove vivo.